Il Centro Storico di Grosseto, unico nel cuore dell'Italia, è stato al centro di un convegno di studi e proposte per il presente e per il futuro organizzato dall'Associazione Culturale Polis 2001 in collaborazione con il Comune di Grosseto e con la Fondazione del Polo Universitario. Abbiamo raccolto queste proposte di grandi esperti, operatori sul territorio, ma anche degli osservatori speciali per proporre, per creare una struttura creativa che ci possa aiutare a registrare opinioni, fonti di conoscenze per dare al Centro Storico di Grosseto un futuro il più prossimo possibile. Rilanciare il Centro Storico di Grosseto, studiare nuove strategie. Come ogni Centro Storico ha bisogno di una manutenzione, di una riqualificazione, magari anche di una rigenerazione, proprio perché i centri storici sono il cuore pulsante di ogni città, anzi rappresentano proprio la personalità di una città. Ed è importante mettere insieme tante esperienze per capire come preservare e soprattutto lanciare nel futuro anche la nostra parte più storica della città. Il Comune di Grosseto, grazie anche ai fondi del PNRR, ai fondi privati, sta applicando una visione di rigenerazione urbana, di sostenibilità, di riqualificazione molto efficace. Dall'altra è importante riscoprire quella che è l'identità. Abbiamo finanziato per altri 2 milioni di euro il bando sulla rivocazione storica a cui partecipa anche Grosseto e abbiamo già approvato alla Camera la prima legge quadro sulla rivocazione storica a livello nazionale e presto verrà approvata al Senato.